Dottore non mi scappi, non mi scappi, proprio adesso mi son tolto che il perretto non le manco di rispetto, sono vecchi veronesi il fratello di Vittorio aveva portato una valigia lunga 500 metri ci sta dentro la sua vita una giacca lacerata hanno detto di Vittorio che fu lui l'aggressore che ci fu con l'utazione ma è solo un'invenzione il fratello ragionava lui non era un impulsivo Fulminato da una scarica ancora prima di parlare un'imbroscata vera e propria la perizia lo dichiara poi via l'han portato sulle spalle trasportato ma il sangue di Vittorio non si sa dove è finito poi via l'han portato sulle spalle trasportato ma il sangue di Vittorio non si sa dove è finito non ce n'era più nel corpo ma era poco sulla strada e poco anche sulla giacca dico io dov'è finito nei vestiti insuppati di chi spalla quella notte per 500 metri il peso l'ho portato non mi scappi grazie dottore non mi scappi proprio adesso le ho portato una valigia lunga 500 metri non mi scappi grazie dottore non mi scappi proprio adesso non rifiuti questa valigia lunga 500 metri non mi scappi grazie dottore non mi scappi proprio adesso non rifiuti questa valigia lunga 500 metri non mi scappi grazie a tutti